Ehi riders, questa sera vi spiego come si deve quello che è il camber rockery, il camber inverso, diapositiva così vi entra bene in testa, avete capito? Esatto, non ci sono punti d'appoggio se no nella parte centrale, ve lo faccio vedere su questo modello di tavola che appunto è una delle poche rimaste rocker, storicamente il rocker fa parte di quella che io definisco la seconda generazione, cioè la prima, erano appunto le tavole a camber tradizionali, e poi hanno inventato questa totale inversione del camber. Che cosa otteniamo a livello pratico? All'interno di una tavola di questo tipo, utilizzando una tavola di questo tipo, sarà sicuramente una tavola che privilegia la manovrabilità. Zero punte di contatto, si salvano un po' le slaminate, sicuramente però avremo lo spiacevole effetto di diminuire di molto il pop e la tenuta di questa tavola, al punto tale che, se devo essere molto sincero oggi, questo tipo di prodotti puramente rocker sono quasi scomparsi, o quantomeno sono legati un po' più al mondo delle tavole gibbing, quelle che vanno sui ferri, quelle che devono a tutti i costi salvare l'errore a scapito appunto della precisione. Se siete quindi dei gibbari o comunque degli smanovratori, dei cazzeggiatori da battering totale, potete tranquillamente valutare ancora le tavole freestyle con profilo rocker. Boom! Boom!